Un regalo di Natale anche per gli amici a quattro zampe. Per il settimo anno consecutivo l'amministrazione comunale di Arezzo ha così donato cibo secco ed umido alle custodi delle colonie feline, 32 equintali a disposizione pari a 40.000 passi. Le colonie sono più di 200 nel territorio comunale e devo ringraziare sinceramente i custodi che ripeto sono tutti volontari e quindi stanno facendo un ottimo lavoro. Noi cerchiamo di aiutarli con questa distribuzione di alimenti, sono 40.000 pasti e ripeto questa è la settima distribuzione di alimenti. L'impegno dell'amministrazione comunale infine è forte anche nella lotta contro maltrattamenti ed abbandoni. Abbiamo anche un nucleo operativo della nostra polizia municipale, abbiamo la collaborazione con OIPA che sono le guardie zoofile per cercare di eliminare dove ci sono dei maltrattamenti che naturalmente condanniamo con tutte le forze. Un'iniziativa che vede coinvolto anche il canile comunale di Via della Cella dove le custodi delle colonie possono ritirare il cibo in quantità proporzionale ai gatti ospitati e proprio da EMPA arriva un appello in vista del Natale. Solamente adottare e io lo dico in ogni città ormai da tanti anni, in ogni città esiste un canile o comunque una struttura che raccoglie animali abbandonati. Quindi questo è il più bel regalo che potete fare a un figlio, a un genitore. Cioè è un gesto di solidarietà, di amore che mi sembra giusto sia sottolineato proprio nel periodo di Natale dove si dovrebbe essere tutti migliori. Grazie. Grazie.